Spallaccio Germania Ovest, il suo periodo di utilizzo maggiore tra gli anni 70 e 80. Un bellissimo spallaccio costruito in maniera molto molto accurata. Abbiamo degli agganci metallici anteriori orientabili. Anello sul retro. La struttura ricorda molto lo spallaccio della Wehrmacht in cuoio. Qui abbiamo dei materiali ovviamente più moderni e più perfezionali. È leggermente imbottito al suo interno con un materiale che sembrerebbe nylon. Mentre la parte esterna sembra essere in canvas, in cotone ritorto. Questo è il tessuto naturale. Lo spallaccio è regolabile tramite sul vetro, tramite questo aggancio metallico d'alluminio. E questo moschettone serve per agganciarlo sul cinturone, su un altro moschettone che è presente sul cinturone. Sul davanti abbiamo lo sbocchiamento degli attacchi, per cui sono doppi, con la possibilità di regolarli sempre in altezza, in ambe due i casi. Sono presenti due anelli metallici, anche anteriormente. Complessivamente è uno spallaccio ben costruito e molto molto solido, per reggere carichi gravosi. Buona manifattura occidentale, tedesca. Grazie a tutti.